Non sperate niente, guardate la realtà, guardatevi intorno e sappiate che dove sono i picchietti tra poi ci sarà la strada. Si era assegnato Don Marco Polverari dopo l'incontro avvenuto alla cooperativa Tre Ponti fra l'amministrazione comunale di Fano e i residenti che sono stati espropriati da società autostrade per realizzare le opere compensative alla terza corsia della 14. Il cappellano dell'ospedale Santa Croce che per anni ha guidato la battaglia affinché venisse modificato il tracciato non vuole illudere le persone che fino ad oggi hanno creduto e sperato in un possibile cambiamento. Don Marco infatti ieri ha avuto la conferma che a fine estate inizieranno i lavori per realizzare l'infrastruttura e sembra che ormai sia impossibile ogni ripensamento, ha detto il sacerdote, la decisione del comune è irremovibile. Quello che verrà a realizzare, che sembra così utile, così importante, in realtà verrà a danneggiare per sempre fino a che stiamo in questa terra la qualità della vita di oltre 50 famiglie, non è poco. Ieri sera guardavo tutto l'itinerario di questa strada che tra l'altro è complessa, perché non c'è un itinerario lineare, gira, si rigira, passa sopra, va sotto. Qualcuno ha detto scherzando, speriamo che al centro di queste rotatorie, di questi intrighi di strade ci sia anche un piccolo chiosco in cui poter domandare informazioni dove uscire. E io ho detto, ma dico, certamente ci saranno i soliti fratelli che lavano i vetri, che ci daranno anche qualche informazione. Cerca di sdrammatizzare Don Marco, ma nella notte ha deciso di scrivere una lettera indirizzata al sindaco di Fano Massimo Seri. Nelle espressioni può sembrare un po' forte, ha detto il cappellano, ma non c'è nessun giudizio, solo tanta preoccupazione e tristezza. Scusate se mi sono permesso di svegliarvi, tornate pure a dormire, ma non posso augurarvi sogni d'oro. Dignitosamente arreso, disposto a subire, ma anche profondamente convinto, senza ombra di dubbio, che la sua forza, caro sindaco, è la debolezza nel pensare e la sua decisione proprio nell'incapacità di agire, lasciandosi guidare da altri in questa, come purtroppo anche in altre questioni che riguardano la città. Ormai non c'è più niente da fare. Sì, vale per la nostra strada, ma forse vale anche per lei e la sua amministrazione. Auguri.